Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente. Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per la famiglia Ricci risparmio è uguale a carrello più pieno. E per Albert Eurospin è uguale alla massima convenienza al quadrato. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni. Eurospin, la spesa intelligente. Grazie a tutti.